Siamo alla prima partner conference, Hewlett Packard Enterprise a Rimini, vediamo il format nelle sue linee principali. Il format che segue le linee di soluzioni sulle infrastrutture di Hewlett Packard Enterprise. Abbiamo voluto riservare in queste due giornate molto spazio, i nostri partner tecnologici, i nostri partner di soluzioni. Gli abbiamo dato spazio nei teatri per presentare le soluzioni che poi il mercato ci richiede. Abbiamo utilizzato molto tempo nel presentare durante sei breakout fondamentalmente quelle che sono le strategie di Hewlett Packard Enterprise, quindi le transformation area, il programma sui nostri partner certificati Platinum, Gold e Silver e il programma di implementazione del canale su quelli che sono attualmente i partner Business, Partner e Proximity. Abbiamo affrontato due aree molto importanti che sono quelle del mercato dell'S&B e i mercati di sviluppo in cui si sta dedicando l'azienda per ampliare il suo raggio d'azione e permettere poi anche di coinvolgere i partner in un ruolo di territorio e di soluzione nell'ambito territoriale. Siamo alla termine appunto della due giorni, vediamo un attimo qualche numero e facciamo un bilancio dell'evento. Direi così, a caldo bilancio assolutamente positivo. In due giorni abbiamo avuto due plenarie con 400 persone coinvolte, abbiamo avuto 6 breakout, abbiamo avuto 51 workshop nei teatri, abbiamo avuto 500 persone con un totale di 300 partner che hanno frequentato la parte espositiva, hanno con noi un po' relazionato durante la cena di gala, un momento elegante, simpatico, ci siamo scambiati un po' di opinioni sul mercato, sulla partnership, è stato riuscito molto bene anche questo cambio culturale di andare verso il mercato, verso delle soluzioni dove loro sono protagonisti nel presentarli su quello che è il nostro portafoglio d'offerta infrastrutturale. Vogliamo lasciare un messaggio ai partner in attesa dell'edizione che verrà? Allora, beh, sicuramente l'anno prossimo lo rifaremo. Sicuramente è una formula vincente, cioè due giorni in cui ci si confronta sulle necessità del mercato. Iulipark Enterprise con i suoi partner possono vincere insieme. Grazie. Grazie.